Senza artisti e canzoni ci sarebbe solo il silenzio. Chiaramente noi di Millennium lo sappiamo bene. Per questo Moac ha lanciato Caffè Unplugged, il concorso per musicisti emergenti. La competizione è aperta a tutti, a parte che le canzoni rientrino in una delle cinque categorie della collezione My Music Coffee. Cinque miscele per cinque generi musicali. Aromatico jazz, morbido funk, intenso soul, forte rock, decaffeinato castic. I brani proposti dovranno già essere editi e dovranno avere quella marcia in più tipica di Caffè Moac. I dieci finalisti selezionati avranno poi così l'opportunità di diventare volto, suono e voce della speciale edizione My Music Coffee 22 di Moac. Ed essere così intervistati in esclusiva sul magazine Rolling Stone. Scopri il regolamento completo e come partecipare al concorso su www.caffeunplugged.it. E poi, sabato diciotto giugno, ci sarà un altro importante evento firmato Caffè Moac. I festeggiamenti per la ventesima edizione del concorso Caffè Letterario Moac. I vincitori dell'edizione 2022 saranno così annunciati durante la serata di premiazione che si terrà proprio presso l'headquarter di Caffè Moac a Modica. Caffè Moac, make it wonderful.